amici canale europa sport come sempre bentornati a golasso bentornati anche voi ciao matti ciao fede ciao vince ciao a tutti ciao ragazzi allora mi avete detto prima che i pronostici che avete fatto la settimana scorsa sono stati migliori rispetto a quelli della prima volta che abbiamo deciso di cimentarci in questa impresa quindi chi è che ha vinto la sfida pronostici credo di essere stato io mi confermate ragazzi confermo fede quindi ti sei stranamente vince nei giochi vince sempre i ragazzi non state dimenticando la settimana scorsa non ha vinto il quiz inaspettatamente chi ha vinto la coperta è corta chi ha vinto la settimana scorsa inaspettatamente mi aspettavo tipo una coppa sul tavolo visto che per il quiz no per il quiz no rubetta da niente ragazzi qual è stato il vostro gol preferito della settimana scorsa vince? vince io allora per me il golasso è stato quello di Kvara e lo premio anche per la prestazione perché ha sfornato una prestazione come non si vedeva da tempo era quello di cui aveva bisogno il Napoli e ha fatto un gran gol quindi premio lui. Te l'aspettavi Matti? Sì mi aspettavo cioè non mi aspettavo un gol di Kvara Sciglia ecco ti aspettavi che vince Sciglia? Sì perché sanno che sono un grande stimatore di Kvara e noi continuano a dire che Kvara Sciglia è meglio di Leao quindi mi aspettavo questa sua scelta sì erroneamente un po' banale però ho paragonato a Sivuri e così vabbè dai diciamo che abbiamo frainteso il contesto sì non avevo capito era un po' decontestualizzata esatto quindi ti sei fatto fregare Fede dai questa settimana ne hai uno io dico ma io vado su una dico il gol di una squadra che ha perso ovvero quello di Volpato del Sassuolo in Bologna Sassuolo un gol che era valso il vantaggio appunto dei neroverdi il 2 a 1 un gran bel gol si è spostato la palla sul mancino un bel tiro a giro che ha superato Skorupski quindi io dico il gol di Volpato scelta come dite voi esotica esotica prego Matti io invece per me il gol più bello è quello di Nijiru soprattutto per la palla di Leao che ha messo per me una palla deliziosa c'è per esempio il guarascheglia per me non sa mettere e una grande scornata di Girufa una grande torsione e per me è il gol più bello posso dire che mi è piaciuto molto il tuo definirla palla deliziosa mi è piaciuto complimenti grazie passiamo allora ai pronostici di questa settimana venerdì alle 20.45 salernitana Empoli velocissimi ragazzi che ha qualcosa da dire su questa cosa vi aspettatevi su questa settimana scorsa entrambe sono finite 0 a 0 beh allora è uno scontro diretto che può valere doppio in chiave salvezza e quindi ovviamente giocheranno entrambe per vincerle un pareggio non serve a nessuno è sola delle due per cui dovessi dare dovendo dire un obbligato direi salernitana per te salernitana vince Fede? io dico due perché la salernitana mi pare che insieme all'offenheim e all'ausburg è l'unica squadra che non ha ancora fatto clean sheet in casa e inoltre ho letto una statistica che diceva che da palla recuperata la salernitana è la squadra che poi va a concludere meno mentre l'Empoli nonostante la posizione in bassa classifica è quella che da palla recuperata conclude di più dietro solamente al Napoli e comunque ad altre squadre di alta classifica io dico due ma ti dirò di più marcatore cambiaghi ma non avevo dubbi piccolo spoiler della puntata di 65 e mezzo al Fanta che vi invito ad andare a vedere vai tu come a te io proprio come ha detto vince che il pareggio non serve effettivamente a nessuna delle due io dico pareggio perché entrambe no per me si faranno male a vicenda proprio per questo motivo una salernitana che però ha capito che per fare punti non deve subire gol infatti l'unico risultato utile dopo cinque sconfitte di fila è lo 0 a 0 col Torino quindi senza subire gol è vero che l'Empoli sta attraversando un ottimo momento soprattutto con Nicola grande ex della partita però per me si faranno male a vicenda e finirà con il pareggio e Cagliari-Lazio di sabato alle 15 entrambe escono da due sonore sconfitte si può dire? sì parto io vai 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 allora secondo me la Lazio queste partite un po' le soffre contro le squadre piccole, le squadre in lotta per la salvezza quindi mi aspetto un risultato a sorpresa beh però se ti interrompo la settimana scorsa l'ha sofferta contro l'Atalanta sì no no dico in previsione di Cagliari-Lazio è una partita che la Lazio secondo me potrebbe soffrire e per questo mi aspetto un risultato a sorpresa e dico 1 il Cagliari che quindi si riprenderebbe dal 4-0 subito contro la Roma per te Fede? per me tra le due partite giocate da queste due squadre settimana scorsa ovvero Roma-Cagliari e Atalanta-Lazio diciamo che la sconfitta più sofferta secondo me per certi aspetti può essere quella della Lazio perché comunque con una Roma di cui parleremo dopo in fiducia, che gioca bene, con l'entusiasmo che ha portato De Rossi ci stava che il Cagliari perdesse all'Olimpico la Lazio è stata completamente surclassata dall'Atalanta fino all'ottantesimo una squadra che nelle ultime due partite ha concluso in porta solamente due volte in 180 minuti per me sono due squadre che hanno delle lacune il Cagliari però è una squadra davvero in crisi puoi dire? cosa? puoi dire? non è una brutta squadra sì, no, no non lo so, se dovessi dirti adesso un pronostico di chi potrebbe retrocedere io penso che il Cagliari lo metterei la Lazio fermiamoci però al pronostico sì, sì, sì no, scusate, mi sto un po' no, 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 ci sta tantissimo ma secondo te chi vince? due chi perde? due la Lazio per te e Marti? stringo per me pareggio oggi deciso ci saranno tutti pareggi se la sta giocando così quindi adesso nella partita che possiamo commentare possiamo avere forse più opinioni contrastanti Roma solo uno di noi potrà azzeccare il risultato in questo caso esatto nell'etico della Lazio e tra l'altro, scusami, volevo aprire una parentesi la prossima settimana ci sarà la Champions quindi la Lazio potrebbe anche magari avere già la testa altrove visto che sarà in campo contro il Bayern Monaco e direi finalmente torna la Champions così possiamo anche tornare a commentare possiamo anche commentare esatto qualcosa di fresco vediamo Roma-Inter sabato alle 18 la Roma che abbiamo appena detto abbiamo appena finito di dire vince in maniera straripante per 4-0 e l'Inter che gioca un'ottima partita Mattia stavolta parto da te secondo te come finirà questa Roma-Inter di sabato? uno quindi dici che l'Inter viene fermato dalla Roma per me è la Roma che giocherà la partita perfetta contro l'Inter non sarà l'Inter che verrà fermata ma la Roma che farà diciamo la partita dell'anno perché vedo una Roma totalmente cambiata una Roma che è vero che dall'arrivo di De Rossi ha incontrato squadre sulla carta molto abbordabili però è cambiata la mentalità non c'è più quella Roma che per ogni fallo vanno in otto da cerchiare l'arbitro non ci sono più falli brutti, cattivi in mezzo al campo per spezzare gioco una Roma che gioca e per me l'Inter avrà un po' diciamo un senso di sarà caduta la adrenalina diciamo dallo sfuntro diretto contro la Juve non dico che arriverà con la mente tutta scarica però la Roma per me può sorprenderla a me deve proprio trovare questa forza secondo me l'Inter cioè di non adagiarsi ha fatto uno scatto decisivo per lo scudetto per me peserà proprio quello il fatto che in alcuni giocatori potrebbe esserci l'idea che hanno fatto veramente lo step per vincere lo scudetto che in pratica da qui in poi sarà in discesa eh sì quindi per te vince la Roma forte di questa sensazione dell'Inter per te vince? allora per me come dicevo l'Inter deve per mentalità non adagiarsi ok? ha fatto dicevamo uno scatto decisivo verso lo scudetto comunque quattro punti di vantaggio con una partita in meno però non può rallentare e per dimostrare ancora una volta di essere la squadra più forte del campionato deve cercare di entrare un risultato positivo anche a Roma anche un pareggio secondo me andrebbe bene e quindi infatti il mio pronostico è X il pareggio veniamo a te Fede sarà il lago della bilancia di questa allora io sono molto d'accordo con quello che ha detto Matti cioè che finalmente a Roma è cambiata la mentalità a partire dal suo allenatore tu hai sottolineato il fatto che non ci sia più una panchina che si alza in piedi che vanno a circondare il quarto uomo per il minimo fallo anche in conferenza stampa finalmente la Roma ha un allenatore che parla di calcio che non si mette a parlare in portoghese per provocare che non addossa responsabilità ai suoi giocatori che in certe circostanze hanno avuto in altre no però l'Inter ha fatto una prova di forza non lo so è stata come una sentenza a livello caratteriale più che a livello di gioco per me la vittoria dell'Inter sulla Juve non lo so sono dico due perché io volevo dire X ma visto che oggi vogliamo differenziarci vogliamo far vincere qualcuno dai dico due io ho detto X anche perché secondo me questa sarà una prova di maturità anche per la Roma perché comunque come abbiamo detto le settimane scorse ok tre vittorie alle prime tre panchine per De Rossi però contro tre squadre in lotta per la salvezza quindi sul fondo della classifica adesso contro l'Inter è l'occasione per misurarsi contro la capolista contro quella che ripeto si sta dimostrando la squadra più forte del campionato quindi anche per la Roma è un bel banco di prova quindi un pareggio potrebbe accontentare entratte non vittoria dell'Inter la tengo fra qualche settimana io ok aspettiamo allora sabato alle 20.45 proseguiamo con Sassuolo-Torino il Sassuolo che perde appunto anche questo molto si può dire perde sonoramente anche il Sassuolo e il Torino invece fa 1-0-0 Fede parto da te beh il Torino se dobbiamo analizzare la gara appena passata è un'occasione persa perché arrivava da risultati risultati convincenti e prestazioni altrettanto convincenti pareggiare in casa 0-0 creando praticamente poco o nulla contro l'ultima in classifica ti mangi le mani specialmente se pensi che il Torino anche tenendo conto del fatto che ha una gara in meno dopo le dichiarazioni di Juric è una squadra che può seriamente giocarsi secondo me il posto in Europa e mi sembravano abbastanza sincere le parole di Juric in questa conferenza stampa inedita dove diceva l'obiettivo è o arrivare in Europa o io me ne vado secondo me il Torino ha una rosa per cui può crederci davvero e non vedo come se ha davvero questa motivazione non vedo come non possa fare risultato contro lo Sassuolo quindi io dico perdonami è Sassuolo Torino? Sì è Sassuolo Torino io dico due allora no perché sennò chiamiamo anche perché zitto zitto effettivamente sono a 4 punti dal sesto posto 3 punti dal settimo che poi ovviamente dipende anche dall'andamento della Coppa Italia per quel che riguarda le qualificazioni europee però dito zitto è lì quindi ci può credere quindi anche per te può portarla a casa in Torino? no io dico X e dico pareggio anche in questo caso questo è l'uomo pareggio dico pareggio anche in questo caso perché il Sassuolo è in difficoltà e almeno un punto almeno un punto portiamo la casa gli farebbe bene Matti? no io sono d'accordo con Fede io dico due a Sassuolo Torino però volevo dire una cosa che sono contento per i tifosi del Sassuolo cioè per i quattro tifosi del Sassuolo che finalmente Dionisi è in dubbio finalmente Dionisi è in dubbio sono passati sei mesi dall'inizio del campionato per mettere in discussione Dionisi per me è sopravvalutato e soprattutto devono dare una scorsa a questo Sassuolo ricordo che abbiamo fatto anche una parentesi fortemente voluta da te riguardo al lento declino del Sassuolo sì però comunque non ha una rosa per queste posizioni in classifica la trovo nettamente superiore a squadre tipo Frosinone e Genua secondo me è un attacco Pinamonti-Berardi-Loriente ci sono squadre sopra in classifica Sassuolo guarda lo stesso Torino per me se confronti Zabatta-Sanabria è inferiore a Loriente-Pinamonti-Berardi sì Berardi che però tra l'altro adesso sarà tra l'altro che tornerà tra tre settimane quindi comunque dico due sono contento per i tifosi per i quattro che ci sono che Dionisi è in dubbio sì ha fatto una sola vittoria da dicembre in poi il Sassuolo e di questo passo si fa contro la Fiorentina continuate a darmi gli assist per lanciare la partita successiva perché domenica alle 12.30 si gioca Fiorentina come avete appena detto Frosinone Frosinone che ha fatto una buona partita contro il Milan tu dicevi che poteva che avrebbe vinto e invece sei stato smentito ma sono stato smentito dal risultato perché sul piano del gioco per me il Frosinone ha vinto il Milan che sul piano del gioco si è dimostrato ancora una volta imbarazzante è stato surclassato dal Frosinone e ti dico di più Fiorentina-Fosinone due quindi la striscia negativa ma contano il gioco i tre punti beh infatti è una domanda che volevo farvi c'è questo Frosinone che comunque gioca un ottimo calcio a mio parere è la strada giusta o no? ma secondo me il Frosinone è una squadra un po' ambigua perché ha dei reparti che sono estremamente squilibrati cioè e secondo me sono anche un po' la rappresentazione di quella che è la sua classifica ovvero un po' sopra le aspettative ma pur sempre buttando un occhio dietro a quelle che arrivano secondo me il Frosinone ha un reparto offensivo davvero davvero molto forte che però è compensato in negativo da un reparto difensivo però i difensori non ce li ha i tertini si sono rotti tutti era quello che stava dicendo anche Fede è appunto è quello che stava dicendo un po' per struttura ci hanno preso i pazzi per poi diciamo rispedirlo indietro perché era arrivato in fortuna sì no no esatto sembro però il Milan i giocatori si rompono per cui secondo me secondo me non ha come sono d'accordo con Mattia non ha offerto una brutta una brutta prova contro contro il Milan negli ultimi minuti si è però sgretolata e il Milan ha recuperato la partita a proposito di squadre che si sono sgretolate negli ultimi minuti apriamo una parentesi sulla Fiorentina sì 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 volevo tenerla per la partita successiva perché guarda in Lecce ma facciamola subito perché non lo so non lo so io vedo una Fiorentina come una squadra potenzialmente con da quarto posto sia per come gioca sia per gli interpreti che ha sai quell'eroe nella Fiorentina il Milan l'allenatore che lo stanno pensando sei laico il Milan lo sa italiano no ma io il giorno no io mi aggredo anche il tuo pronostico Fira uguali vado a Firenze e mi stringo la mano no io smile il tuo pronostico è un 2 quindi no il mio pronostico è 1 ah ok ah ok ok per cui tutta questa questa loda per arrivare per dire un 2 semplicemente sottolineare come il Frosinone abbia fatto una buona prestazione contro il Milan come la Fiorentina abbia perso in una maniera ridicola davvero da nascogli si sottolineerà la partita a Lecce e quindi invincerà la Fiorentina che adesso non ho mi sfugge ma non so da quante partite non vince la Serie A ma nel 2024 all'anno nuovo non ha ancora vinto Torino se non in Coppa Italia prima o poi deve arrivare questa questa vittoria quindi per te la Fiorentina e per te vince mi ha rubato le parole in bocca Fede perché io direi 1 proprio perché secondo me riuscirà a centrare questa prima vittoria dell'anno nuovo anche perché sta perdendo continuamente terreno verso il verso il quarto posto quindi non può piovere per sempre un po' come ho detto prima per ma anche perché io voglio varenzo però è ma io dico 1 vittoria vittoria della Fiorentina hai ragione ma anche perché io voglio pensare che se tu perdi a Lecce una gara che comunque non moda nell'altro ripassata in vantaggio se tu la perdi così non lo so secondo me è una cosa talmente ridicola come ho detto prima che che dà gli errori in pari cioè se la Fiorentina dovesse passare in vantaggio contro il Frosinone secondo me delle cavolate come come Via del Mare non le rifà e come hai detto delle Lecce domenica poi gioca il Lecce alle 15 in trasferta contro il Bologna il Bologna che abbiamo citato prima ha vinto 4 a 2 contro il Sassuolo mentre il Lecce ha fatto questa partitona io lo definirei partitona in rivolta contro una Fiorentina due minuti perfetti poi la partita il seno la giocata sì sarà due minuti perfetti però poi due minuti lì sono stati abbastanza per portarsi a casa una super vittoria quindi in Bologna Lecce Fede parte da te chi vince chi perde oppure non lo so fai come l'uomo pareggio uno ok il Bologna forte del 4 a 2 vince anch'io dico uno perché dopo un periodo un po' sottotono il Bologna sembra aver ritrovato quanto meno i risultati e quindi secondo me adesso è un po' sulle ali dell'entusiasmo potrebbe centrare una nuova un altro successo un altro successo quindi dico uno Bologna ma sarebbe stato bello se poi dopo tutto questo avesse salto uno tu Matti se Tiago Motta smette di fare il fenomeno con i giocatori gli allenatori oggi gli allenatori che giocano hanno un'idea di calcio propositiva sono odiati da Mattia Mattia si sta paginando per una panchina di serie A si chiedi qualcuno sta fando ancora palladino girare sta fando su tutti i allenatori perché per me le scelte dal primo minuto imbarazzanti per doverlo andare a sistemare con i cambi tipo Orsolini e Selle Makers che alla fine ti cambia la parita col Sassuolo tolto ciò per me il Bologna rimane nettamente più forte del Lecce quindi è uno quindi se te l'hai accorta Tiago Motta mettendo a punto Selle Makers Orsolini o la risolta per il Bologna Dionisi mettendo tre soldi silenzio vabbè tre soldi fa il suo tre soldi anche la sola presenza all'interno della rosa crea di salzo ma di là di tutti i meme guarda che io sono convinto come un po' per Maguire al Manchester United io sono convinto che questi giocatori che vengono che fanno brutte prestazioni che vengono anche un po' tormentati dai tifosi in realtà cioè non è colpa loro è colpa di chi li paga una cifra dieci volte superiore al loro valore è pagato tre soldi 5 milioni volevi dire quello? 5 milioni è stato pagato al Sassuolo che con tutto rispetto per il Sassuolo non penso siano non penso siano pochi soldi volevi dire che tre soldi non è stato pagato tre soldi no guarda no guarda che fai che schifata no mi è stato pagato tre soldi però in generale cioè come si fa a pagare una sedia ecco che senso insomma vedremo poi se chi l'ha azzeccata no beh su questo siete tutti d'accordo quindi sì l'avete azzeccato insomma poi domenica Monza Verona un pronostico velocissimo per me è pareggio X di nuovo di nuovo pareggio si salva così con questo di Gregorio che è tornato volevo dire anche io X allora metto i mani avanti questo sarà il pronostico che sbaglierò 2 2 con la vittoria del Verona 1 con la vittoria è molto perfetto anche qui uno di voi sicuramente la azzeccherà ci sono state tre partite finite 0 a 0 nell'ultimo turno e questa a me dà l'impressione di essere un'altra di quelle partite da 0 a 0 ma sì portiamo a casa un punto facciamo un pareggio tanto e Genoa-Atalanta 1 domenica alle 18 anche quella secondo te finisce 0 a 0 no però 1-1 no non finisce con un pareggio ok aspetta l'uomo pareggio cambia idea vai dico 2 2 quella vittoria dell'Atalanta sì perché l'Atalanta in questo momento è lanciata è vero che è anche vero che fa molto meglio in casa che fuori che fuori però in questo momento è lanciata ha ottenuto una bella vittoria contro la Lazio e secondo me non getterà punti adesso anche se anche il Genoa è in una striscia positiva ma anzi cambio dai dico pareggio di nuovo dai guarda bene bene dico pareggio io volevo dire 2 perfetto quindi siamo ancora una volta tutti diversi aspetta bravo noi dico 1 tutti diversi tutti diversi io dico 2 sottoscrivendo tutto quello che ha già detto vince sulla Talanta io praticamente ti ho servito sì esatto ha detto tutti motivi per i quali potrebbe vincere l'Atalanta però dico X infatti io dico 2 bene 20.45 di domenica Milan Napoli entrambe le squadre vengono da una vittoria Mattia parto da te in questa questa possiamo definirlo si in big match chi la porta a casa perché io non penso che finirà con un pareggio io dico 1 nel Milan perché finalmente Pioli l'unica cosa che Pioli ha capito negli ultimi anni da quando è il Milan è come affrontare il Napoli per la fine in Champions League ma non come affrontare l'Inter non come affrontare solo come affrontare l'Inter l'Inter non ancora si è sanzionato combattere il Napoli da non so quanti anni cioè il Milan vince il sanzionato contro il Napoli da da dieci anni da 2014 l'anno scorso l'anno scorso mi ha vinto in casa contro il Napoli la partita più importante doveva vincere in casa contro il Napoli ovvero l'andata di Champions League noi stiamo parlando di Serie A quindi Serie A ha fatto il sanzionale ok quindi per te vince il Milan perché scongiura questo risultato a San Siro Fede mi hai detto che non ti aspetti una partita da pareggio io invece me lo aspetto proprio da pareggio no mi hai tolto il risultato dai io dico x devo ancora farmi un'idea se sarà una gara con tanti gol magari un 2 a 2 o uno 0 a 0 1 a 1 non lo so devo ancora inquadrare un 3 a 3 tanti gol in Napoli un 3 a 3 no 4 a 4 esatto infatti ho detto 2 a 2 non hai detto 4 a 4 cioè siamo mica in Premier x x comunque per te un pareggio vince anche tu no a questo punto dico 2 almeno almeno anche in questo caso diamo tutti un risultato diverso se no non c'è divertimento dico 2 vittorie del Napoli non tanti gol perché in questo momento Napoli e tanti gol sono due cose che vanno due strade separate attenzione però non tanti gol fatti da Napoli ma tanti gol presi da Milan ultimamente ok sì diciamo che è un po' è un mordo in siracura se il Napoli non segna il Milan non prende gol e quindi stiamo tornati al punto di partenza vabbè tanto non dobbiamo dire il punteggio quindi dobbiamo dire solo il risultato a questo punto dico 2 vittoria del Napoli che ha ritrovato tre punti con con il Verona magari adesso ha ritrovato Guvara lo dicevamo prima e magari adesso da questi segnali positivi ne trae ne trae vantaggio e concludiamo quindi lunedì alle 20.45 con Juventus Udinese Udinese che viene da un pareggio di 1-0-0 mentre la Juve ha perso contro l'Inter ovviamente come sappiamo tutti e ha fatto una partita direi insomma in la giocata un po' in sordina la giocata esatto dai non l'ho vista la Juve in campo non so voi allora facciamo così dimmi tu il pronostico il pronostico è uno evidente di vario tecnico dico uno però tornando a Inter-Juve per me la Juve proprio non si è vista in campo cioè non ha fatto niente per impensarire l'Inter ha aspettato solo l'Inter il primo poi il gol è arrivato deve anche ringraziare Scesni se viene a 3-0 una partita così nessuno aveva da dire niente per me non so poi voi io sono d'accordo con te Fede passiamo da questo lato sono d'accordo l'Inter ha nettamente superato la Juve dal punto di vista del gioco dell'intensità delle idee da un lato mi viene da pensare che la Juve doveva fare questa partita perché secondo me Allegri e alcuni giocatori stessi sono consapevoli che a livello a livello tecnico ci siano appunto delle delle disparità tornando a Juve Udinese c'è da considerare che la Juve ha diversi infortunati Danilo sarà sarà squalificato Vlaovic e Chiesa c'è da vedere se recupereranno essendo usciti abbastanza malconci da Can Siro potrebbe secondo me la Juve potrebbe soffrire un po' l'Udinese ovvero una squadra che avendo la Juve poche idee di gioco potrebbe soffrire l'Udinese in quanto squadra che si chiude molto come la Juve gioca con un blocco molto basso ti potrei dire X ok un parente con gol o senza gol ti ho avuto difficoltà 1-1 1-1 0-0 Vince ma parlavamo prima del Milan che non vince con il Napoli da tanti anni guardavo così per curiosità l'Udinese non vince a Torino con la Juventus dal 2015 poi l'ha perse tutte e per questo io dico due pensavo tutto così e poi comunque iniziai 21 no per questo dico due perché potrebbe essere un altro risultato a sorpresa una vittoria dell'Udinese che ne ha vinte solo due ha vinto solo due partite in tutto il campionato fin qui e chissà che non che non va a strappare i tre punti proprio a Torino con la Juventus anche perché per un altro discorso che facevamo prima ovvero l'Inter ha fatto uno scatto decisivo verso lo scudetto la Juventus potrebbe un po' abbassare la guardia non so come dire nel senso dire ok ormai mollare il colpo esatto dire ormai è andata e complici anche magari le assenze come citavi tu potrebbe potrebbe venirne fuori potrebbe sfruttare nell'Oes e si alzava decisivo il risultato di Roma stavo per dire la stessa cosa mi volevo agganciare a quanto detto da vince per la prima volta gioca prima giocando dopo Roma-Inter secondo me se l'Inter dovesse vincere l'Olimpico la Juve deve davvero decidere cosa fare del suo destino se non vinci in casa con l'Udinese per me devi seriamente pensare all'opportunità di metterti l'anima in pace e cominciare a guardare a guardarti dietro esatto perché il Milan comunque è a quattro punti adesso dalla Juve quindi potrebbe rosicchiare altri punti ragazzi weekend di finali abbiamo anche un pronostico velocissimo sulla finale della Coppa d'Africa che vede la Nigeria contro la Costa d'Avorio e sulla Coppa d'Asia Giordania contro Qatar vince ditemi chi vince purtroppo mi viene sempre sta cosa quindi dimmi chi la porta a casa vabbè allora parto dalla Coppa d'Asia vai dico Qatar perché giocano in casa il paese ospitante sono i detentori della Coppa d'Asia perché hanno vinto l'edizione precedente e perché la Giordania non mi sembra una squadra irresistibile quindi direi che hanno i favori del pronostico Qatar e invece Nigeria Costa d'Avorio ecco poi qui è già una partita un po' più aperta sono entrambe squadre quotate direi Costa d'Avorio Fede allora per quanto riguarda la Coppa d'Asia io mi sbilancio e dico Giordania perché comunque questa squadra questa nazione sta vivendo una sorta di favola essendo la prima finale che raggiunge ha eliminato a semifinale la Corea del Sud una squadra che all'ultimo mondiale ha fatto gli ottavi di finale ok ha perso col Brasile ma ci sta perdere con un ampio scarto contro il Brasile una squadra che anche a livello di nomi è nettamente più plasonata quindi io voglio quindi secondo me può arrivare in giornale può coronare questo sogno e andare in fondo a questa favola per la Coppa d'Africa dico anche io Costa d'Avorio perché mi piace un po' tifare per gli svantaggiati un po' per gli underdogs la Costa d'Avorio che tra l'altro aveva passato il girone essendo ripescata come terza come miglior terza ultima miglior quarta e ultima miglior terza esatto e aveva scusami aveva anche già affrontato la Nigeria nel girone perdendo e quindi anche per questo ho detto Costa d'Avorio che magari si riscatta del girone io dico vittoria in Nigeria ecco poche scontate ma penso che i terminali offensivi della Nigeria abbiano pochi uguali la coppia Lukman Osimene penso che potrebbe giocare titolare in qualsiasi nazionale ma Lukman no però Osimene magari si e Coppa d'Asia invece ti dico Qatar per proprio la netta superiorità della squadra un paese ospitante un paese che ha già vinto quindi sa già come vincere è vero sono belle le favole ma quando arrivi a un certo punto conta anche l'esperienza bene abbiamo fatto i pronostici anche questa settimana e quindi adesso è il momento del quiz per vedere chi vince oggi siete pronti? a tanto ci sono pochi dubbi su chi vince o no hai ragione vince 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 allora chi erano le finaliste dell'Europa League 2016-2017 e se volete dirmi anche chi ha vinto mi sono perso il mio fede è partito estremamente carico oggi io come sempre non ricordo niente ho una memoria veramente di ve la devo ripetere? le finaliste dell'Europa League 2016-2017 sì ci siete? ne ho un io ne ho solo una vai allora dimmi l'una di Siviglia ha vinto è andato è andato tante volte che sarà arrivato in finale no? fede? per me la finale era Ajax Manchester United un giovanissimo Ajax dove esordivano De Ligt De Jong e Dolberg davanti e anche un'ana in porta però fu vinta da dal Manchester United di José Mourinho con Ibra che si era rotto il crociato in quell'edizione dell'Europa League che era in panchina con le stampelle Matti anch'io dico Ajax United anche perché mi ricordo che hai fatto il quiz su dove era stata giocata la finale 2016 mi ricordo che poi la 2017 era stata giocata in Svezia e quindi quella in Svezia è Ajax United era Ajax Manchester United quindi il punto a voi due ragazzi e te vince no? vinta esattamente dal Manchester per 2-0 posso ritirarmi dal quiz dalle puntate a venire sulle domande di memoria ormai l'avrete capito sono veramente no dai vince questa ha le opzioni in quale di queste squadre non ha giocato Brian Cristante e vi do anche un indizio venduto dal Benfica al Benfica nel 2014 dal Milan nel Pescara nell'Atalanta nel Palermo oppure nel Perugia cioè tu schiacci e scrivi sì dovresti fare un po' le regole comunque le fai un po' tu con i top gol così vittoria prima dovresti scrivere sarà un po' un archibolo allora non partire da me stavolta almeno partiamo da Matti avevo il dubbio Palermo e Perugia e dico Perugia Fede anche io ho scritto Perugia io ho scritto Palermo ed era il Perugia sapevo perché in tutti gli altri ha giocato in prestito dal Benfica e non mi ricordavo il Perugia ma neanche loro non entripe fate tanto no no ti dice io ho detto nulla ti ho detto eri in dubbio sparato mi ricordavo la carica e lui si ricorda sempre vediamo il risultato esatto e i marcatori di Empoli salernitana del 27 settembre scorso quindi la gara di andata esattamente vorrei suggerire tu ho scritto prima e poi ho schiacciato no devi dirlo a me mi sa che devi dirlo al lunedì ragazzi ci siete? ma sì ma sì ma sparo vai vatti io dico 1 a 0 baldanzi però non so sicuro se era l'anno scorso o no so che sì ma scusa io ti ho detto no no non so se l'1 a 0 era l'anno scorso o quest'anno cioè mi ricordo un Empoli salernitana finita 1 a 0 ok quindi tu mi stai dicendo Empoli salernitana 1 a 0 col gol di baldanzi baldanzi e invece Fede ho inventato ho messo 1 a 1 gol di di A per la salernitana e Luperto magari di testa su calcio in angolo e invece ragazzi vince la azzeccata col VAR era gol di baldanzi e vittoria di Lempoli mi sono salvato sì sì la azzeccata anche matti sì sì la azzeccata anche matti quindi sei in vantaggio no no sì no 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 è in vantaggio anche oggi io vi sento l'Inter mettete tutte le pressioni su di me e poi magari alla fine non vinco io mi sento la salernitana va bene passiamo a una domanda che questa settimana prevede soltanto tre opzioni di risposta chi è arrivato secondo alla Coppa del Rey 22-23 perdendo in finale contro il Real Madrid l'Atletico Bilbao il Barcellona o l'Osasuna cos'è avresti era l'uno la risposta uno quindi A quindi Atletico Bilbao ok Fede Osasuna Bilbao Atletico Bilbao Fede sei ripreso perché era proprio l'Osasuna ha perso il finale 2-1 gufi ti metti nei gufi e io sbaglio sai perché me lo sono ricordato per il famoso discorso di Ancelotti nello spogliatoio non me lo ricordo è diventato abbastanza virale dove faceva tutto un discorso ai suoi giocatori e poi diceva la cosa più importante domani giorno libero e tutti impazzivano è diventato abbastanza virale vediamo ah sì non ricordo hai ragione non ricordo come si è visto beh Matti lui se lo ricordava io no tu no io no quasi nulla vediamo l'ultima domanda chi fu l'autore o gli autori dei due gol che il 20 giugno 1996 consegnarono la vittoria dell'europeo di quell'anno ovviamente alla Germania vi dico le opzioni Biroff e Bode doppietta di Biroff doppietta di Bode oppure Klinsmann e Kunz voi li devo ripetere autore o autori dei due gol che consegnarono nel 96 la vittoria dell'europeo alla Germania Biroff e Bode doppietta di Biroff doppietta di Bode oppure Klinsmann e Kunz si decide tutto in questa esatto ho visto che hai scritto per primo una musichetta tipo far west allora scusate vince dimmi tu la risposta la prima Biroff e Bode ok Fede la D Klinsmann e Kunz si ho messo C doppietta di Bode c'è l'attimo di Suspense e ragazzi non l'ha azzeccata nessuno perché era la doppietta di Biroff subentrato a Scholl al subentrato a Scholl almeno per non so non penso di non sei fede quindi non puoi fare i regolamenti ti metto conto che quel mezzo punto lo farebbe vincere guarda io sono altamente contrario non penso funzionare è vero che le regole le fa le fa fede tu potresti portare a casa il mezzo punto quindi finisci con uno e mezzo mentre i due ragazzi qua a mia destra e a mia sinistra no perché non posso darti ah no no ma va bene un punto ho detto che mi sento la salernitana ho fatto un punto dopo dopo cinque spunti in fila e dopo un punto e chissà che non ci stupisci come magari ci stupirà la salernitana quindi ragazzi voi questa settimana siete co-vincitori possiamo dire così? possiamo dirlo beh tu la settimana scorsa eri co-perdente questa settimana come se una volta sarai solo come Tamberi alle ultime esattamente 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 ragazzi siamo arrivati alla fine anche questa settimana grazie per aver giocato grazie per averci seguito vi invito a seguirci anche su tutti i nostri social dove ci trovate come canale Europa Sport ci vediamo la settimana prossima sempre qui a Golasso ciao